Hanno sfondato la porta d'ingresso e poi si sono introdotti nello studio dentistico in via Basento a Cattabrighe di Pesaro. E' accaduto la notte scorsa in una palazzina a un piano dove i ladri si sono diretti verso la cassaforte. L'hanno smurata, gli hanno asportato le attrezzature che conteneva, tra cui l'oro utilizzato per le protesi dentali. Ad accorgersene questa mattina il proprietario dell'immobile che ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. C'era la porta spalancata del laboratorio e una volta entrato ho visto nella prima stanza, in poche parole, la cassaforte smurata. Che cosa conteneva? Ma conteneva poche cose di valore. Gli abbiamo dato un valore oltre 700-800 euro di danni, insomma, tra la porta, la cassaforte e quello che c'era all'interno. Sono stati anche nel laboratorio che è adiacente? Sì, proprio sono entrati da lì, poi hanno fatto un po' tutti, quindi hanno fatto lo studio dentistico e hanno fatto l'ambulatorio del dottore Silvi. Il proprietario ha subito denunciato il furto ai carabinieri di Pesaro, ma l'assenza di telecamera, circuito chiuso, non agevolerà il lavoro degli inquirenti. C'è qualcuno che ha sentito visto qualcosa? Niente, perché l'unico inquilino che abita in poche parole non c'era e non è stata neanche forzata la porta. I ladri la notte precedente avevano già preso di mira un altro studio dentistico a circa 300 metri di distanza in strada della Romagna. Secondo la testimonianza di un vicino che ha sentito dei rumori, i malviventi si sono introdotti poco prima delle 23. Anche qui hanno forzato la porta d'ingresso e rubato un computer e circa 700 euro in contanti.